Si chiama profezia dell'armadillo. Ogni previsione ottimistica fondata su elementi soggettivi e irrazionali spacciati per oggettivi e logici destinata ad alimentare delusione, frustrazione e rimpianti. Potrebbe essere più chiaro? Un vademecum per prendersela nel culo. Tutto si muove all'interno dello schema madre del sistema potere, abilità, sovraffazione, denaro. Ti dovevi vedere l'odio. Il dogma degli schelli di tutte le periferie d'Occidente. Questo è il film di quello che stavi da mi padre, con la poca di Feroci, con le TS. È normale che brucia, c'è pure scritto spray al pepe roncino. Sabato scorso ero bello riposato a mezzogiorno, una spruzzata fatta bene in faccia e poi riuscivo a intrattenere dei rapporti. Perché mi sto strefando? Senti, qual è il problema del computer? Che hai fatto? Start? Eh. E dopo start? Scrivo, cerca dove lo scrivo, sulla scrivania? Non ce la faccio. Ti giuro, guarda. Che fai? Tommazzano piano. Termo! Se mi lascia le generalità. Adriano Panetta. Professione? Professione. I zombie che poi li cadiano l'aglio, no? No, quelli sono i vampiri. I vampiri sono ricchi e f***nosi. Invece i zombie sono proletariato. Quanto anni c'hai, te? 27. Non è meglio, la fregna, no, eh?